Quando si parla di Capital Asset Pricing Model, ovviamente si parla di lui, di Markowitz. La teoria del portafoglio di Markowitz è una delle cose più importanti che ci sono in finanza. Se volete sapere un po' di aneddotica su questa teoria correvoce che sia stata la sua tesi di dottorato e che lui l'abbia fatta in due o tre notti, quindi l'abbia fatta come intuizione geniale, sviluppandola fuori dai tempi ordinari della preparazione di una tesi. Era un paper originariamente molto ridotto, però tanto ridotto quanto succinto, quanto ha fatto fortuna nel mondo accademico. Ed è uno dei pilastri della finanza, nel senso che successivamente ci sono state diverse critiche, ci sono diversi punti che non sono magari eccessivamente operativi, però rimane a tutt'oggi un modello a cui tutti guardano come punto di riferimento, se non operativo sicuramente concettuale. Quindi diciamo che è veramente un qualcosa che nella sua semplicità, perché è effettivamente un modello semplice, cioè non ci sono equazioni differenziali, non c'è una strumentazione tipo matematico complessa, però è una cosa che va a carpire quello che è veramente l'anima della teoria rendimento rischio. Nel senso che la teoria di portafoglio di Markowitz mette ordine in quello che ci siamo detti fino adesso e dà una risposta a quale sia la relazione tra rischio e rendimento. Cioè, quale rendimento vi devo ottenere da un asset in base al rischio che quest'asset comporta. Quindi diciamo che tutto questo can-can per andare poi a definire quella cosa che avete visto ormai fin dalle prime lezioni è onnipresente in finanza, la relazione rischio-rendimento. Allora, andiamo a prendere quello che è una variazione di prezzo. La variazione di prezzo di un asset, non meglio specificato, anzi no, della Coca-Cola. La variazione di prezzo quotidiana. Allora, voi non avete fatto statistica e non sapete cos'è la distribuzione normale, c'è una distribuzione gaussiana. Allora, Gauss ha fatto una cosa che quando uno studia all'università, non so perché, almeno a me, nella sua semplicità non mi era mai stata spiegata la potenza di che cosa sia la distribuzione gaussiana. Semplicemente Gauss, che era un matematico, aveva in maniera empirica identificato che diversi fenomeni naturali, l'altezza degli uomini piuttosto che il peso degli uomini, fenomeni naturali di diverso tipo, fenomeni di tipo economici, pensiamo alla produzione, pensiamo alla produzione di un manufatto, qualsiasi tipo di manufatto, una piastrella ceramica, pensiamo alla produzione di un'automobile, pensiamo, insomma, diverse manifestazioni naturali e umane ubbidivano a questa distribuzione. Cioè, se io andavo a plottare su un asse cartesiano le evenienze, le manifestazioni di questa attività umana, io vedevo che ubbidivano delle leggi costanti. Per cui, alla fine, avevano questa distribuzione cosiddetta campana o gaussiana che vedete rappresentata nello slide. Che cos'è la distribuzione a campana? Sostanzialmente, in questo caso, ne abbiamo la Coca-Cola, la variazione percentuale dei pressi. Voi vedete che la variazione percentuale dei pressi si addensa nel picco della campana in quella che è una variazione intorno allo zero. Quindi la Coca-Cola, diciamo, ha delle piccole variazioni intorno allo zero, all'interno del range 0,2%, 0,0%, cioè vedete che, diciamo, la maggior parte della frequenza delle variazioni rincade nel range tra meno 1 e 2%. Cioè, la Coca-Cola, voi dal 1987 al 2004 avete visto che ha oscillato tra il meno 1% e il 2% nella maggior parte dei casi. Le variazioni o molto positive o molto negative costituiscono quelle che sono la coda della campana, cioè la distribuzione della campana. Vedete che la forma della campana ha una forma, appunto, che si dice normale perché si addensa intorno alla media. Quindi, se andiamo a fare la media dei rendimenti, vedremo che molto probabilmente sarà una media dell'1% ed è la parte più elevata della campagna, tra lo 0 e l'1% dovrebbe essere qua, no? Quindi, sostanzialmente, la distribuzione gaussiana vi dice che un fenomeno è rappresentato dalla sua media, che adesso sto andando in maniera veramente, che se mi sento uno statistico mi metto contro un muro, mi fucila senza neanche farmi aprire bocca. quindi è rappresentato dalla media e dalla deviazione standard, dalla deviazione standard o dalla varianza intorno alla media. Quindi, diciamo, noi di questa distribuzione normale, presupponendo che i rendimenti rispettino questa distribuzione normale, ovviamente ci sono degli strumenti statistici, ci sono dei calcoli per prendersi la distribuzione normale o non normale, molte volte basta l'osservazione della forma, della distribuzione. E qui c'è sempre un capitolo, ovviamente, che c'è un universo dietro. Comunque, noi presupponiamo che la distribuzione dei rendimenti è normale per fare le cose semplici, quindi obbedisce a queste leggi identificate da Gauss che fanno sì che questo fenomeno sia rappresentato dalla sua media e dalla sua varianza, con determinate caratteristiche di comportamento, no? Una di queste, per esempio, che è la distribuzione di frequenza di questi accadimenti è all'interno, per una percentuale, all'interno di media più o meno una deviazione standard e una percentuale ancora maggiore contenuta da media più o meno due volte la varianza. Quindi la curva di questa, la conformazione di questa distribuzione se noi andiamo a vedere le probabilità esprima anche il rischio, nel senso che se questi sono rendimenti ovviamente voi vedremo che tra questa distribuzione e questa distribuzione io preferisco la seconda, questa, quindi la B. Perché? Perché ovviamente se anche la media del rendimento è lo stesso, vedete che la media del rendimento, cioè la punta della campana è la stessa, l'oscillazione, la distribuzione dei rendimenti ai lati, nelle code, è molto superiore nell'investimento A. Quindi diciamo io nell'investimento A ho più area nella coda estrema, quella negativa, quella che mi fa paura, dove perdo bei soldoni. Invece nel caso dell'investimento B io ho la stessa media di rendimento però ho molta meno area nella parte negativa e questa è la parte negativa della curva, dove io ho delle grosse variazioni delle grosse variazioni negative dell'area che esprimono le probabilità. Sì, vado a vedere l'investimento C rispetto all'investimento B, allora lo scostamento dalla media, le code non sono ciccione come questa quindi significa che il rischio che mi vada a perdere il 30% è molto ridotto e in ogni caso la media del rendimento C è superiore a quella di B perché B diciamo che è qua, non vedo quant'è, ma non importa perché ovviamente noi siccome gli assi sono posizionati nella stessa maniera vediamo che questo rendimento qui è 0 è più lontano dalla 0 di quello che non sia in questo grafico quindi questo rendimento è superiore a questo a parità di rischio quindi alla fine tra i tre portafogli quello che vince è il portafoglio C quindi che cosa dice la teoria del portafoglio di Markovic la teoria del portafoglio di Markovic è la rappresentazione formale di un procedimento che vi permette di combinare più azione all'interno di un portafoglio per ridurre lo scarto quadratico medio del portafoglio ottenuto sommando diciamo i pesi delle due azioni rispetto a un semplice camcolo della media ponderata e questo come vi ho detto precedentemente è permesso dai dai coefficienti di correlazione ovviamente siamo sempre all'interno di quello che abbiamo spiegato prima ma adesso siamo arrivati un passettino più avanti però le varie combinazioni di azioni che creano questi scarti quadratici medi costituiscono l'insieme dei portafogli efficienti andiamo a vedere allora noi mettiamo su un asse cartesiano le nostre due azioni che sono Rebook e Coca Cola abbiamo un scarto quadratico medio e abbiamo un rendimento atteso allora come vi ho detto prima fino a che il raw è uguale a uno se il raw è uguale a uno e noi facciamo un portafoglio tra Rebook e Coca Cola ci muoviamo lungo la retta rossa cioè mano a mano che noi ci avviciniamo a Rebook che è quella che ha un rischio più elevato perché lo scarto quadratico medio è qua più elevato rispetto a Coca Cola ma anche un rendimento più elevato quindi mano a mano che il nostro portafoglio aumentano i pesi fino ad arrivare 80, 70, 80, 90, 100% se il nostro portafoglio è composto 100% da Rebook ha il rischio di rendimento di Rebook se è composto al 50% tra Rebook e Coca Cola ha ovviamente un rendimento e un rischio che è a metà tra i due se va su Coca Cola è pesato interamente su Coca Cola quindi ha un rendimento atteso uno scarto quadratico medio di Coca Cola però diciamo che voi vedete sostanzialmente che il portafoglio è nient'altro in termini di rendimento e di rischio la media ponderata dei rendimenti e rischi delle due azioni perché il Rho è uguale a 1 cosa succede se il Rho diventa inferiore a 1 se il Rho diventa inferiore a 1 noi se vi ricordate la formula che era x1 alla seconda più x1 alla seconda avevamo un portafoglio composto da azioni azione 1 azione 2 qual è il rischio del portafoglio il rischio del portafoglio è uguale a x1 al quadrato per sigma 1 al quadrato più x2 al quadrato per sigma 2 al quadrato più 2 volte x1 per x2 per sigma 1 per sigma 2 moltiplicati Rho allora nel caso in cui Rho fosse inferiore a 1 mettiamo 0.9 ovviamente noi andavamo a ridurre il rischio del portafoglio rispetto a una situazione in cui il Rho fosse uguale a 1 perché ovviamente 0.9 prendiamo solo il 90% del fattore non prendiamo il 100% del fattore che è il caso in cui Rho è uguale a 1 quindi se Rho è inferiore a 1 quando andiamo a comporre il portafoglio tra questi due asset che hanno Rho inferiore a 1 noi vediamo sostanzialmente che ci troviamo in una curva che ha una pancia che è bombata perché? perché ad esempio se noi siamo in questo portafoglio quello con la stella rossa che è il 35% di Rebook noi vediamo che cosa che su posizionandoci su questa linea noi otteniamo lo stesso rendimento perché ovviamente il rendimento è misurato dall'asse delle Y quindi il rendimento è lo stesso tra quello della stella e quello della nostra curva rossa però il nostro rischio che è misurato sulla nostra asse delle X è di molto inferiore perché il rischio ovviamente un conto se lo metto qua è un conto se lo metto qua qui sarà il 20% e qui lo sposto e a naso sarà il 10% quindi ottengo lo stesso rendimento con un rischio inferiore e questo perché succede? succede perché ce lo siamo detti prima in questa posizione io ho un Rho inferiore a 1 quindi da qua a qua non è cambiato niente è cambiato solo che Rho da 1 è passato a inferiore a 1 quindi io ho ridotto il rischio perché? perché l'addendo più 2 per X1 per X2 per Sigma 1 per Sigma 2 moltiplicato Rho invece di avere 1 ho avuto 0,9 ovviamente che cosa succede nel caso in cui ad esempio succedesse che il nostro Rho diventa meno 1 allora se il nostro Rho diventa meno 1 quindi ha un valore completamente negativo meno 1 noi potremmo succedere che il nostro rischio adesso potremmo anche poi metterlo così così rimaniamo sempre nell'esempio di prima noi potremmo arrivare nella fortunata soluzione che noi otteniamo un portafoglio che ha sempre la stessa percentuale di rendimento vedete che questo punto è posizionato sulla stessa asse di questo punto che di questo punto quindi il nostro rendimento è sempre lo stesso però abbiamo avuto uno scatto quadratico medio c'è un rischio pari a 0 e questo perché ovviamente per l'effetto positivo di Rho uguale a meno 1 ok quindi qui abbiamo Rho uguale a 1 qui abbiamo Rho inferiore a 1 e lì abbiamo Rho uguale a meno 1 ok quindi questa è una delle cose più importanti che noi abbiamo in finanza cioè di capire che se il Rho è uguale a 1 non abbiamo nessun vantaggio in termini di rischio a costruire un portafoglio se non ottenere diciamo una media ponderata in termini di rendimento di rischio di quelli che sono le nostre due azioni se il Rho è inferiore a 1 o addirittura è negativo abbiamo una drastica riduzione di rischio a parità di rendimento quindi diciamo riallacciandoci a quello che ci siamo detti nel capitolo precedente è questo il vero vantaggio della teoria di Markosic quindi di dare una spiegazione di come varia il rischio del portafoglio in base all'andamento del Rho allora quando noi ovviamente ci troviamo in questo in questo punto noi dobbiamo andare a valutare che ad esempio tutti i portafogli che sono al di sotto della linea blu quello blu elettrico sono portafogli che sono non sono efficienti come questo nel senso che se io vado a prendere un portafoglio in questo punto questo punto ha lo stesso rischio ma un rendimento inferiore ci siamo se io vado a posizionarmi anche lungo la curva per esempio se sono qua questo punto posizionato sulla curva ha lo stesso rischio ma rendimento superiore a tutti gli altri punti che sono posizionati su questa curva qui diciamo questo punto sulla curva che si chiama frontiera efficiente che contiene tutti i portafogli che sono superiori a quelli precedenti è da preferire a quelli che sono al di sotto fino a quando succede questa cosa questa cosa succede finché non arriviamo qua sulla punta della pancia perché sulla punta della pancia noi abbiamo un portafoglio che è l'ultimo portafoglio posizionato sulla curva efficiente perché in questa parte sotto noi ovviamente abbiamo portafogli che hanno sia rischio che rendimento inferiore a quelli sopra quindi diciamo questa parte inferiore di portafogli non è da considerare e quando noi arriviamo sulla punta della pancia questo è il min variance portafoglio cioè è il portafoglio che ha la minima varianza minima varianza e quindi è il portafoglio che ci dà il minore rendimento pari al minor rischio tutti i portafogli di questa parte che di solito è colorata con un altro proprio colorata con un altro colore per dimostrare che tutti questi portafogli sono inefficienti rispetto al portafoglio minimum variance ok perché ovviamente questo portafoglio ha un maggior rischio con un rendimento minore questo portafoglio ha rispetto a questo ha un rischio maggiore con un rendimento minore quindi questo è il portafoglio minimum variance tutti i portafogli posizionati su questa curva dalla minimum variance fino a Reebok sono i portafogli posizionati su quella che si chiama frontiera efficiente ovviamente ovviamente noi sotto la curva troviamo tanti altri portafogli tanti altri punti che io posso gestire adesso qui è spesso in maniera più più complessa però va bene questo ragionamento tutti questi punti che sono nell'area al di sotto della curva esprimono dei portafogli che non sono efficienti perché quelli ottimali sono tutti quelli posizionati al di sopra di questa curva ovviamente voi mi direte vabbè minimum variance ci siamo perché qua tutti quelli sotto non sono efficienti rispetto al minimum variance però tutti questi portafogli che sono posizionati sulla mia curva sulla mia frontiera efficiente sono portafogli che possono essere scelti nel senso che è vero che quando io sono su questa stellina adesso magari mettiamoli un altro colore quando io sono sulla stellina verde sono nella stellina verde io sostanzialmente ho un determinato rendimento un determinato rischio quando sono un po' sopra avrò un maggior rischio un maggior rendimento che cosa fa sì che io preferire la stellina verde e la stellina rossa nel senso che qui ho un maggior rischio nella stellina verde ho maggior rischio e maggior rendimento una stellina rossa ho un minore rischio e minore rendimento ovviamente che cosa mi fa preferire la stellina verde alla stellina rossa perché qui è vero che la stellina verde ha maggior rendimento ma anche maggior rischio l'osservazione è corretta è vero e lo scopriremo alla fine del film no la cosa importante è che qualsiasi stellina adesso non so mettiamo un altro colore mettiamo una stellina una stellina rosa dobbiamo mettere una stellina rosa come si fa no visualizza riempimento forma la mettiamo arancione e invece siamo d'accordo ed è evidente che la stellina verde la stellina rossa sono preferibili alla stellina gialla perché la stellina gialla ha un rendimento e un rischio che sono inferiori a tutti quelli di questa parte in questo punto avrebbe un rischio maggiore per parità di rischio ok la stessa cosa questo avrebbe un maggior rendimento parità di rischio un maggior rendimento parità di rischio quindi diciamo è evidente che la stellina gialla non è competitiva fino a rossa questo è il portafoglio minimum variance quello rossa di rischio di rischio di rischio